O Dio, veni in mio aiuto, Signore affrettami non tardare, al Padre e al Chielo e allo Spirito Santo, Sia gloria a me in secoli, in secoli, in ave. O Dio, veni in mio aiuto, Signore affrettami non tardare, al Padre e al Chielo, e alla Tua pietà dolcissima, nel mare che ci appascina, il corpo santo libera. Ognipotente ascoltaci, per noi Cristo ti supplica, che regia in tutti i secoli, con te il Santo Spirito. Amén. 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 Si aduneranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore. Ha fiaccato per via la mia forza, ha previato i miei giorni. Io dico mio Dio, non raffermi a metà dei miei giorni. I tuoi grandi durano per ogni generazione. In principio tu hai contato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi feriranno maturi mani e tutti si lavorano come veste. Come un abito tu rimupperai ed essi passeranno. Ma tu resti lo stesso e i tuoi anni non hanno fede. I figli dei tuoi serbi avranno una dimora. Resterà santa davanti a te la loro discendenza. Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione. E tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Nelle Tue mani, Signore, affido il mio spirito. Nelle Tue mani, Signore, affido il mio spirito. Nelle Tue mani, Signore, affido il mio spirito. Tutto è compiuto, Signore, scelgo la Tua salvezza. Ora lascia, oh Signore, che è Tua salvezza. Vada in pace secondo la Tua parola, perché i miei occhi hanno visto la Tua salvezza, preparata da te in avanti a tutti i popoli. luce per illuminare i leggenti e gloria del Tuo popolo Israele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre nei secoli, nei secoli, nei secoli noi. Tutto è compiuto, Signore, ci hai dato la Tua salvezza. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al Tuo servizio. Per Cristo nostro, Signore. Il Signore ci conceda una notte tranquilla e una fine nella Sua pace. Ateno. 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 Grazie.